Dieci persone arrestate e altrettante ancora indagate sono il frutto di un'operazione portata a termine dalla questura di Teramo che ha permesso di scoprire un traffico di carte di credito clonate in Pakistan e che venivano poi utilizzate nella provincia di Teramo, con la complicità di alcuni esercenti. Nella notte abbiamo proceduto a degli arresti a conclusione di un'elaborata attività investigativa condotta dalla squadra mobile e dalla polizia postale, a carico di dieci persone italiane e straniere facendo parte di un'organizzazione criminale dedita all'indebito utilizzo di codici di carte clonate e di accesso abusivo a sistemi informatici. Sostanzialmente c'era un soggetto di questi che aveva dei contatti in Pakistan e riusciva a reperire in Pakistan questi codici clonati di carte di credito e grazie a questi codici poi gli associati riuscivano ad ottenere un ritorno economico illecito attraverso delle spendite in esercizi commerciali compiacenti. Si parla di circa 500 mila euro, è giusto? Il danno calcolato è circa 500 mila euro, esatto. Ci sono ancora delle attività in corso, vedremo l'esito, ne vedremo l'esito. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila e si è potuti arrivare all'individuazione dei componenti della banda criminale grazie a intercettazioni telefoniche ma anche a comunicazioni telematiche con l'intervento della polizia postale. Siamo riusciti attraverso queste indagini a scoprire una vera e propria organizzazione criminale, quindi un'associazione per delinquere dedita appunto alla captazione dei codici per la clonazione delle carte di credito che avviene soprattutto nel Pakistan dove c'è una persona che riesce, trasmette e captando fraudolentemente questi codici a trasmetterli qui in Italia, in Italia c'è appunto questa organizzazione che si occupa di reperire questi codici e traslarli poi su carte di credito contraffatte e utilizzare carte di credito all'interno di esercizi commerciali.